ragazzi per la prima volta, per la prima volta in questo canale questo è un moschito larga, un uomo come si può vedere, è chiaro è cominciato, è incredibile come hanno survived questi milioni di anni hanno prosperato, hanno un milione e un milione è come un piccolo vampiro, che è crescita questo piccolo vampiro voglio riposare il mio sangue ma è buono per i pescati e i figli e i uomini quindi questo è quello di altri animali wow ragazzi e potete vedere come funziona l'apexo ah, è molto bene wow ragazzi è vero se vuoi vedere questo tipo di video direi a me perché c'è una piccola piccola è molto piccola è molto piccola è carnivore Ci ha provato di rumore anche i brici quando si cresce vuole cercare tutto il nostro blu guarda non so guarda adesso vedo non so 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 se ti piace contenuti così mi dico in commenta clicca la bellissima ok see you next video ciao ciao ciao